Mr. Hop Playhouse 2 Demo Andiamo a fare un nuovo gioco Abbandonata proprio come ero prima Devo fare romare per evitare i pericoli Allora Non facciamo rumore Comunque entriamo qua Non c'è nulla Perfetto Su Ok andiamo giù Ok Shift e spazio Aio Chiusa Ok invece Ok Esther Abbasso un po' il volume Abbasso Ok Ma Ma perché qua È tutto Vabbè Andiamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo Che sarà mai Wow Santo cielo Estè Corriamo 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 No 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 mere Ah, era un incubo. Ah, ok, scusa me. Blacklands Manor. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream, over and over again. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. I'm not crazy, Molly. Here you are, kids. More things for you to make a mess with. New toys! Oh no, il coniglietto pazzo. Il coniglietto pazzo, no, no, no. Oh, santo e scialissimo! I feel like... I've seen this before. These are quite creepy looking. No, they're not. They're adorable. I'm going to call mine Miss Bow. I'll call mine Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Mr. Hop. Mr. Hop. Ecco, Mr. Hop. Mr. Hop's Playhouse 2. Capitolo 1 Nascondino Allora, ragazzi, in questo video vedrete le mie dita, e non so se vi ho visti in questo video, ma comunque benvenuti su Mr. Hop Playhouse 2. Proprio, è tipo, ho deciso di rifare questo video, perché in quel video che ho appena fatto, in questo gioco, l'audio non si sentiva tanto, e infatti, perché non fare un remake? Va bene, comunque, mi raccomando di iscrizione al canale, mi piace e commento, perché non so se c'è tempo per spiegare, però c'è poco da spiegare, perché ho pensato di fare solamente un remake di questo gioco, e perché non farlo allora? E là sarebbe una buona idea. Esther! Down here! Esther! Qui! Ok, allora sto arrivando, inizio a correre come un matto, fino a... correrò come una gazzella, come se non ci fosse un domani, eccomi. La mia bellezza e intelligenza andranno a nascondersi nella libreria, anzi, nella biblioteca. Voi perché mi guardate, Molly, mi raccomando, nasconditi in un posto decente. Ok, vai! Andiamo a contare. 3, 2, 1, coming! Ready or not! Mr. Hop, you wait here. Ma mi sa che non bisogna parlarci, perché... mi sa che poi succederà qualcosa di strano su Mr. Hop, perché... anche su questi peluche non mi convincono tanto. Ah, vediamo un po'. Aspetta, no, no, sono sceso per sbaglio. Uh... ecco, ti ho trovato, Isaac. vai andiamo giù andiamo molly andiamo molly ma seriamente seriamente chi è che lei ok beverly ok andiamo a prendere mister cos'era quell'ombra ragazzi che sta succedendo capitolo 2 la caccia si è mosso si è mosso ester si è mosso ed è andato una musichetta si sente la porta è aperta non dobbiamo far casino cacchio cacchio attenzione ok ci abbiamo fatto ma cos'era come ha fatto mister stripes ad essere in quella stanza anche se non c'è anche se non c'è andiamo sento qualcuno però andò da giù però andò da giù però andò da qui provo eh raga ecco un armadietto ma quello no scusami un attimo eh quello era mister miss bow ecco come si è andato qui ok torniamo qui aspetta forse c'è una lettera nascosta no non penso no 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 andiamo pure qua non so cosa stai giocando attestero se ti prendi fuori ancora ti spendi la night in la 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 ok ok dillo con calma svegli tutti beve buonanotte però non fare più casino con queste persone che dormono eh ok capitolo 3 capitolo 3 i sei ma i sei cosa i sei cosa i sei cosa chi ha quell'occhio cristo ronaldo cristiano ronaldo chi è lui adesso cos'è quello adesso no una di quelle trappole cos'è quell'occhio devo fare attenzione qua eh lo sento qua eh sta venendo qua eh e infatti ve l'ho detto ragazzi che veniva qua lo sentivo anche da qui vediamo se non viene qua mi ha seguito quel fetuso bravo che passi di lì io vado di qui di là non è sicuro ok ok e addirittura quelle trappole lì eh torno su torno su aia 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 ma con gioia eeeh vai ok ok non credo che vi ho detto ragazzi facciamo attenzione facciamo attenzione non credo che mi starò poi passi di lì oh passiamo di qui aia non devo perdere vita eh mi sa che la medaglia è sotto ragazzi che non è ne manco nel primo piano ne manco nel secondo piano mister hop ecco bravo vattene bravo bravo bravissimo bravo mister hop posso è quella mister hop giusto ma è shadow mister hop mister shadow vai un'altra medaglia è andata ok quei pugni la non sono i suoi passi raga se lo sto ricordando vediamo se non è sopra di corsa ok addirittura queste trappole qua addirittura e infatti mi sarò per qui non posso andare ora mi ha visto perchè ho sentito il pom ok aia madonna mi ha fatto male questo eh ma con gioia aia non pfff unz 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 ahah passo d'altro pff no o!! perchè son andato indietro e son morta ahah Cos'è? Ma dai, no No Non è possibile Vai Ci riprovo ragazzi Ma con più attenzione Vai, prendo sta medaglia E via 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 Via, 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 via Ma in basso Via, 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 via Via, 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 via Eccola lì Via, 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 via Aia Non mi farà più male questa mano gigante Ora non mi resta altro che torna indietro Mi sto roppo lì Quindi vado qua Faccio salti orribili Ok Passa di qui Passa di qui raga Ma io direi di sì Scommetto di sì E infatti che vi ho detto ragazzi È ovunque Mister Hop è ovunque Eccola Eccola l'ultima Oh Let's go Forse È di una parola Di uno youtuber che conoscete Pokintox Che dice Let's go Alla sua intro Vai andiamo a spegnere il fuoco Avanti Vigili del pompieri Esther il pompiere Vai andiamo Andiamo a spegnere il fuoco Dannato Zotzo Sporco Forse è la stessa cosa Zotzo sporco È la stessa cosa forse Vai andiamo a spegnere il fuoco Vai pompieri Siamo il pompiere Vai Siamo il pompiere Oh Ci abbiamo fatta Cos'è quello Oh Oh mio dio Santissimo Capitolo 4 Molly Che significano questi simboli E perché Sto sempre vedendo Beh non ho la minima idea Esther Se lo saprebbero anche gli altri Ah eccoli Molly You put Mr. Hop in the kitchen last night And got me in trouble What? That wasn't me Why would I go anywhere near Mr. Hop When I have Miss Bo Are you sure you weren't just sleepwalking? You know Maybe if you didn't act like such a princess And tried to be nice We all might actually like you Oh 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 Ah vabbè Addio Molly You should go Apologize Perché dovrei scusarmi Isaac Perché mi devo scusare Isaac Non so perché mi devo scusare Vabbè Mi vado a scusare Se mi vado a scusare Anzi se io muoio è merito tu Isaac Se muoio La tua La responsabilità è tu Isaac Vabbè Vado da Molly va Senza perdere tempo Molly Ma infatti dove è andata Molly Aspetta Non mi direi che devo andare da questa parte Oh Oh Qualcuno ha pronunciato il nome Esther Miss Bo Ok Mr. Stripes Oh no Adesso tocca a Mr. Hop Oh no Mr. Hop Fine della demo ragazzi Guardate Mi sono fatto prendere uno spavento enorme Voi non vi rendete conto ragazzi Ragazzi Mi sono fatto prendere un colpo alla fine Mi sto jumpscare di Mr. Hop Mamma mia Che demo Mamma mia Che demo bellissima proprio Beh dai Mi è piaciuta sta demo Dai Direi Bellissima Vabbè Direi che la demo si conclude qua Anche questo video si conclude qua Andrà Gamer vi saluta E Noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando iscrivetevi al canale Mi piace e commento Ciao Ciao